Il comune di Colledara si impegna a ridurre gli impatti ambientali dei rifiuti e l'utilizzo della plastica, diventando un comune plastic free e lo fa partendo da un convegno informativo che si svolgerà martedì 11 dicembre alle ore 11 presso la sala consigliare dal titolo Plastic Free insieme per un mondo senza plastica. Vogliamo portare un attimino all'attenzione questo progetto che partirà da inizio anno che estenderemo inizialmente con un'ordinanza solo per gli eventi più grandi in cui obblighiamo all'utilizzo di plastica riciclabile, comunque biodegradabile che secondo me è un argomento che dobbiamo portare all'attenzione un po' di tutte le amministrazioni pubbliche nazionali e mondiali. Diciamo che lo scorso giugno il ministro dell'ambiente Costa ha lanciato la campagna Plastic Free, questa campagna è molto importante e noi, io e il sindaco Tiberi, riteniamo che sia necessario fare un cambio di rotta per quanto riguarda la plastica monouso. Molti comuni hanno aderito a questa campagna, noi l'abbiamo fatto anche e abbiamo fatto questo convegno informativo proprio per, diciamo in un certo senso, sensibilizzare i comuni e le associazioni a seguire il nostro esempio. Il convegno si terrà martedì 11 alle ore 11 presso la sala consigliare del Comune Colletare, è aperto a tutti i cittadini e ci saranno molti relatori che parleranno proprio del cambio di rotta che si deve avere per quanto riguarda il consumo di plastica monouso. Plastic Free non è altro che eliminare tutta quella plastica usa e getta per un comune che porta una grande spesa e un grandissimo inquinamento, soprattutto le manifestazioni menze scolastiche dove c'è più mole e tutta questa plastica diventa indifferenziato. E quindi andare a ridurre vertiginosamente tutto questo utilizzo di plastica e diciamo convertendolo a quella che oggi è la bioplastica e sono diversi materiali e sono quelli del compostabile.